ok praticamente ragazzi facciamo modifichiamo un attimo questa stone in stone bricks perché da questa parte continua anche di qua quindi lasciamo due sono due finale qua 12 12 poi qua praticamente qua avanti sta uno e due giusto? fammi vedere un po' ok ragazzi la parte di dietro non dovevo chiuderla quindi lui adesso continua di qua e ci allarghiamo sempre di 6 e andiamo a fare tutto quanto questo tragitto ok 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 prendiamo l'altra cobblestone ok e adesso andiamo a chiudere tutto quanto questo riquadro oh perché lo sento vicino? qui sotto mi sa ok ok continuiamo di qua questo ragazzi lo devo abbattere perché vedo nel tutorial che la parte di dietro è aperta quindi andiamo a battere ragazzi ok 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 e continuiamo con la cobblestone che è anche che è anche quasi finita ok andiamo a dormire ragazzi ok 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 devo fare dell'altra cobblestone questa non basta ok 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 ragazzi ho visto che qua comunque continua con i tunnel da due qua c'era una così una così perfetto e mettiamo gli altri due anche da questa parte oh non arrivo vabbè adesso vado a fare la cobblestone ragazzi e ci vediamo tra poco andiamo alla farm di cobblestone vediamo come dall'alto ragazzi beh dai sta avvenendo che è uno spettacolo guardate qui perfetto come nel tutorial andiamo a fare un'altra cobblestone ci mettiamo qua ragazzi e mi faccio la cobblestone ciao 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 ciao